E' un piacere, veramente un piacere, oltre che siamo brasiliane tutte e due, e già questa è una cosa che è già subito di affinità e mi fa molto piacere. Allora, lei è la Presidente Provinciale delle Arti Corte? Sì, ho conosciuto l'ACRE perché è stato il primo lavoro che ho preso con la cooperativa e da lì, dopo un anno, mi è venuto proprio il lavoro di fare un volontariato. Parlai con la segretaria e cominciai a fare questo volontariato. Dopo un mese, quando mi conosco, mi conosco, mi chiamò e mi chiamò e mi chiamò e mi chiamò, abbiamo messo come Presidente anche questo. Prima di fare l'agricorpi, io sono a capire della metallica, facevo un fissino alluminio, fare gli armi. Ok, una donna a tutto fare abbiamo, bellissima. Sì, infatti, la mia famiglia è mio babbo napoletano. Wow, allora, lei è descendente, infatti di Nando, vedo qui, è proprio di famiglia, insomma, è... Sì. La ponte c'è un'altra, ma allora, è su di Nando, è stato qui. Allora, mio padre è di Napoli, è nato lì, però il suo cognome prima era di Nardi. L'hanno sbagliato nel 1800 e veniamo a San Rezzo, della Toscana. Quanta storia? Andò in Brasile nel 60, come bella mia mamma, che sono sposati. Siamo cinque figli, quattro femmine e un maschio, mio fratello è Brasile, le altre sorelle sono massacrata con una sorella infermiera, le altre due, tre, due, con la mia mamma, che non si sono sposate. Io sono venuta da Brasile, che mio padre stava bene, aveva una impresa grandissima di infeccio in alluminio, mia mamma era figlia di... aveva le fattorie, poi ci racconterò la storia. Certo. La mamma della tua storia. Il nonno con tre spalotti sulla spalla. Uh, Diana! E' una parola, poi lo tagliamo, sì, sì, sì. Ti voglio dire che il 26 di febbraio c'è una grande festa per l'immigrazione. A mio non è un bel festa, è qualcosa che possiamo fare vedere. Sì, che il 26 di febbraio c'è una grande festa per l'immigrazione. A mio non è un bel festa, è qualcosa che possiamo fare vedere magari dopo l'immigrazione. Sì, oggi questo momento gioco. Sì, tanto come andiamo là a parlare magari se abbiamo... Faremo vedere, parleremo un po' di questa iniziativa, perché diceva, l'Adriana, non la faccio concludere. Il 26 dicevi? Allora, il 26 di febbraio alle 6 c'è l'inaugurazione Acre Colfe, perché ancora dovevano essere inaugurate. La sede? No, la sede, proprio l'Acre Colfe è nuova. Il corpo? Sì, il corpo. Benissimo, benissimo. Non c'era. Sì, che voi avete inserito nelle Acre il corpo Colfe, che viene inaugurato. Sì, ci sarà una grande mostra, verrà dei pittori di Roma, del pittore e maestro dei magistri Patrizio della Via Giulia. E' una parte importante di Roma, ci saranno tanti, ci saranno cantanti afro-italiani e poi venite, così lo sapeva... E' una deduzione. Brava, e questa manifestazione è proprio per noi immigrati, specialmente, specificamente a noi, perché è la... non dico solo a noi, ma... Ma vorremmeno anche voi italiani. No, no, perché noi si parla dell'argomento, che è quello, però questo non vuol dire che... perché c'è l'inaugurazione delle Acre che riguarda questo settore. Noi vogliamo tutti voi, noi vogliamo tutti in questa manifestazione, perché vogliamo proprio l'integrazione sociale. Noi vogliamo proprio questo, vogliamo unire... I popoli. I popoli. Diventare una sola cosa, come Dio ci ha fatto. Esatto. I suoi vici. Brava, brava. Allora, Adriana, noi intanto ci vediamo qui e là, per poi magari approfondire questa cosa. Abbiamo raccontato un po' della tua storia, abbiamo un'idea di chi sei, della persona bellissima, oltre che sia una bella donna, sia anche una bella persona dentro. Ecco, allora, il prossimo 26 noi ci saremo. Grazie a tutti.